di rispondervi direttamente attraverso questo strumento mediano. Lasciatemi innanzitutto un momento di gratitudine, di memoria grata a Jean-Luc Nancy che è venuto a mancare l'altro ieri. Di lui durante la pandemia avevo riletto l'equivalenza dell'economia e lui ha molto insegnato alla mia generazione insieme al suo maestro Jacques Derrida e c'entra con quello che sto per dire perché una delle sue espressioni direi paradigmatiche del pensiero di questo autore è che bisogna dare corpo alla differenza, differenza così teorizzata come ontologica da Heidegger così messa in campo da Derrida riceve corpo nel pensiero di Jean-Luc Nancy, in particolare nella sua grande opera sul senso del mondo. Ora dare corpo alla differenza nel nostro caso significa dare corpo alla differenza tra Stato e Chiesa. Differenza radicale, differenza che rimane, ma differenza che deve in qualche modo relazionarsi tenendo conto della reciproca alterità dei due soggetti chiamati ad entrare in dialogo. Noi stiamo riflettendo su questo corpo della differenza a partire dal fatto che l'anno scorso si sono celebrati 150 anni da Portapilla. È stata una irruzione. Già ieri si diceva che la modernità ha fatto una irruzione nella Chiesa, come la primavera di Di Andrè, per cui Marco adesso facciamo uno stacco musicale così ci rilassiamo, ci fa sentire un passaggio della canzone Il Chimico datta dall'opera di Di Andrè non al denaro, non all'amore né al cielo. Non sono solo canzone. L'avevo voluta paragonare all'irruzione della primavera perché infatti possiamo considerare la modernità come la primavera dell'Occidente. E non c'è niente da fare. Entra sicura, non bussa. E allora tutti gli arti fisici che possiamo mettere in campo per evitare questo ingresso del mondo moderno, della civiltà moderna, della scienza, del pensiero moderno e dello stato moderno nella Chiesa cattolica risulteranno vari. Di fatto ciò è accaduto e Portapilla resta un punto di non ritorno. Le nostalgie credo che non possono appartenerti. E allora, continuando in qualche modo questa riflessione, vengo a chiedermi come mai e perché e in che modo possiamo impostare il dialogo tra Chiesa e Stato tenendo conto di presupposti o supposti o supposti teologici di questo dialogo. Alla luce anche di quando appena ho detto. Ciò accade per il fatto che ciò accade per il fatto che noi qui ci stiamo occupando non del rapporto Chiesa e Stato in astratto, ma del rapporto tra Chiesa cattolica e Stato moderno. E questa modalità di rapporto teorizzata nelle diverse dottrine concernenti lo Stato ha comunque a che fare con la teologia. Anche se si tratta ecco di una teologia nascosta. nascosta. Nascosta come il famoso testo di Benjamin, di Walter Benjamin, ci suggerisce, come allora dicevo, diventa quindi particolarmente significativo. non sta nato il coso, la tana degli scarafaggi nel balcone. Prego di non aprire i microfoni perché altrimenti sono costretto anche a chiudere il padrimonatore e gli altri che possono intervenire. Allora, una sovranità che tende sempre più a rendere assoluta e illimitata. Ernest Kreischer, questo teologo storico protestante, riconosce nel Medioevo un grande numero di autorità e sovranità, anche se soggette tutte a un potere supremo, vuoi quello del romano pontefice, vuoi quello dell'imperatore. Nello Stato moderno, però, attraverso il principio di immanenza, questo potere supremo, questa sovranità assoluta, viene attribuita appunto a colui che o un'assemblea, non importa, Hobbes lo dice con chiarezza questo, che è chiamato a governare uno Stato. e dunque si tratta della parabola che conduce ad una sorta di assolutismo che troverà poi le sue realizzazioni nei totalitaristi del secolo previi. Di fronte a questo tale divino che ci pone dinanzi al tema della secolarizzazione, io pensavo che la questione della secolarizzazione fosse archiviata in maniera abbastanza definitiva. mentre è raro a scoprire che proprio in questi giorni se ne è parlato in un interessante dibattito che si è tenuto al meeting di Rini e in quel dibattito ha partecipato un personaggio del calibro di Charles Taylor. La secolarizzazione la possiamo intendere da un lato come emancipazione, ma in questo caso come una traslazione della sovranità divina alla sovranità politica intramondana. Da questo punto di vista c'è una parabola che da Leviadano di Hobbes conduce al pensiero hegeliano relativo allo stato etico. Da un lato, Hegel lo mostra molto bene Franz Rosenzweiger nel suo Egel e lo stato. Da un lato per Hegel lo stato è un destino di fronte al quale nulla possiamo fantasticare, ma di cui solo possiamo prendere atto. qui erroni, salta qui, stai al chiove, questo è lo stato. Non fan da sfigare di rivoluzioni di uno stato diverso da quello che ti è dato, stato dall'altra parte. Questa idea dello stato che poteva ancora in qualche modo affascinare anche un personaggio come Franz Rosenzweig si trasforma nel pensiero hegeliano nella idea dello stato come potere violento e dello stato come sovra potere con una dotato di una sovranità assoluta anche che si esercita anche sulla dimensione religiosa e credente dell'esistenza. Scrive Hegel nella famosa prefazione ai lidiamenti di filosofia del diritto, Moses Weig amava a dire che questo è il capolavoro. Come è divenuto famoso il detto secondo cui una mezza filosofia allontana da Dio e si tratta della stessa mezza misura che pone la conoscenza in un'approssimazione alla verità mentre la vera filosofia conduce a Dio così la medesima cosa va detto, va detta dello stato. Ecco questo accostamento tra la sovranità dello stato e quella di Dio fa sì che si svolga appunto proprio a proposito dello stato moderno una metamorfosi per la quale ciò che era attribuito a Dio e all'autorità che da lui immediatamente si riteneva provenisse viene ora attribuito all'autorità statale e da questo punto di vista allora il tema il sulcro di un discorso circa la valenza teologica del pensiero politico moderno sta nella espressione regno di Dio basilea tutte e una di cui abbiamo ascoltato anche nella relazione del professor Pei. La questione è la questione del regno e la questione del regno la ha trovato per esempio in diversi passaggi del Leviatano di Hobbes questa opera per certi aspetti di tenuta fondativa dell'idea dell'idea dello stato moderno con una precisazione molto diciamo incisiva che porta il filosofo inglese a ritenere che ad affermare che il regno non sta nella chiesa presente che la chiesa presente la chiesa visibile sappiamo come nell'ecclesiologia della riforma sia vivace il tema invece della chiesa invisibile la chiesa visibile non coincide con il regno di Dio che Hobbes evidentemente lo dice in quanto si pone in una posizione critica nei confronti della chiesa cattolica che secondo lui è il regno delle tenebre proprio ed è il regno delle tenebre proprio perché si autoproclama regno di Dio dove il regno di Dio non è circoscrivibile nelle nei conflitti della chiesa cattolica e della chiesa presente diciamo della chiesa visibile in questo senso e dunque il ricorso alla parola di Dio nelle pagine soprattutto nella terza parte dell'Eviatano dove si mette in campo l'idea dello stato cristiano il riferimento fondamentale è il riferimento alla parola di Dio come principio essenziale secondo l'autore di una politica cristiana non di meno non dobbiamo rinunciare ai sensi e all'esperienza né alla nostra ragione naturale sono i talenti che Dio ha posto nelle nostre mani e in questo senso abbiamo da un lato la messa in campo della dimensione cosmico-antropologica della rivelazione che noi apprendiamo attraverso la ragione e la messa in campo della dimensione storico-sanologica della rivelazione attraverso il ricorso alle scritture santi. Dunque c'è una profonda ispirazione teologica dentro la stessa nascita dello stato moderno e da questo punto di vista è anche particolarmente significativo e interessante l'operazione grazie anche al richiamo al Leviatano che come si sa è un mostro marino dotato di grande potere ma col quale Dio gioca. Dio gioca con l'Eviatano questo dovrebbe essere in un certo senso questa dovrebbe essere la prospettiva cristiana nei confronti dell'Eviatano e quindi lo prende anche in giro in un certo senso usa l'ironia usa lo spirito non lo critico non lo teme cristiano non teme il potere politico tanto che a dirgli di no e a farsi martirizzare e questo non con un atteggiamento di amore per il sacrificio la sofferenza e la morte cristiano da questo punto di vista come Gesù la morte la subisce non se la autoprovoca dunque in questo senso allora il Leviatano diventa diventa proprio perché tratto dal testo di Giobbe una metafora in quanto metafora per lo Stato chiamato soprattutto a garantire la pace tra le diverse confessioni cristiane quelle che noi in Europa chiamavamo guerre di religione non erano guerre di religione era una guerra tra confessioni cristiane l'autorità la sovranità del appunto re del sovrano doveva garantire la pace tra i cristiani pensate a che punto si è giunto farsi garantire la pace da una realtà altra perché da solo i cristiani non la sanno non la sanno per sé si combattono tra loro ma c'è anche riferimento a Giobbe e le lotte tra cristiani del tempo che noi appunto che alla storia sono passate come guerre di religione vengono in qualche modo pensate come le piaghe di Giobbe e questo è una serie di riferimenti al testo biblico che troviamo anche negli altri scritti di Giobbe ora direi quindi che la riflessione per certi aspetti che riderei anche abbastanza stupefacenti che si ritrova più parola di Dio e più teologia al di fuori della chiesa cattolica dell'epoca ovviamente di quanta non ne ritrovi nella chiesa cattolica stessa e da questo punto di vista allora dobbiamo rivolgerci in qualche modo al tema del regno un regno di Dio che è parola decisamente di difficile comprensione per tanti motivi regno di Dio che per esempio Gesù ama esprimere non attraverso delle affermazioni categoriche quali quelle che possiamo rinvenire nei trattati di teologia ma per esempio attraverso le parabole le parabole del regno il regno di Dio per il credente cristiano il credente in Cristo va chiesto va implorato va impetrato ecco che ritornando a Rosenzweig l'introduzione alla terza parte della stella della redenzione ha come titolo sulla possibilità di impetrare il regno di Dio cioè di invocarlo perché sia Dio a realizzarlo e la stella viene pubblicata nel 21 quindi Rosenzweig in un certo senso è stato profeta nei confronti di ciò che sarebbe accaduto nella sua Germania ed è interessante anche il fatto che l'esergo di questa sezione della stella porta l'invettiva in tirannos contro i tiranni e ma ancora noi continuiamo a ripetere Dein Reich come Venga il tuo regno che è un testo molto pregnante di Dietrich Bonheffer intitolato proprio Venga il tuo regno perché appunto il regno di Dio va soprattutto invocato e quando si cessa di invocare il regno di Dio allora l'uomo con le sue presunde volontà di potenza pensa di attuarlo lui stesso sulla terra identificando il proprio potere con il regno di Dio per esempio c'è un'espressione molto significativa nel testo Bonhefferiano la preghiera istituisce l'ordine umano nel mondo e così ancora si tratta di aprire lo spazio per l'invocazione rispetto al regno e dunque di non lasciarsi irretire da modalità che riferiscono il regno ha un potere violento ha un potere mondato l'autorità che non è servizio non è autentica autorità in questo senso dobbiamo continuare a regare Karl Barth sosteneva che nonostante tutto cioè nonostante il terzo Reich continuiamo a fare lezioni ed esercitazioni continuiamo a studiare alla stessa maniera in cui i monaci dell'abbazia di Maria Lach continuano anche nel terzo Reich la recita delle ore da notte perché Cristo regna anche delle tenebre più fitte allora il momento nel quale si può aspicare un fecondo dialogo tra lo stato moderno la chiesa cristiana e non solo cattolica è l'ora in cui la chiesa prega perché il regno venga e questo la costringe scrive Bonheffer a cooperare pienamente con i figli della terra e del mondo nella prostituzione e nella miseria la obbliga a restare fedele alla terra alla sua miseria alla fame alla morte la rende solidale col male e anche col peccato del fratello è l'ora della preghiera per invocare il regno ma è anche l'ora della completa solidarietà solidarietà col mondo quindi con la cosiddetta lai ho ritrovato in questi giorni un appunto di Giuseppe Capograssi che era destinato a una conferenza che poi ha tenuto alla Fucci nel 1946 e descrive il rapporto chiesa-stato chiesa-cattolica stato-moderno proprio nei termini storici ed escatologici in cui questo rapporto si deve esprimere finché finché non pensiamo anche ai escatologici il regno di Dio e allora non ci si deve meravigliare se la comunità credente si struttura e si pensa come una struttura e un'istituzione del tutto mondana d'altra parte c'è in questo rapporto tra chiesa e stato una radicale asimmetria questa asimmetria la ritrovate nell'articolo 7 della nostra Costituzione sapete l'articolo 7 che ha ricevuto anche il consenso del Partito Comunista nel quale si è dovuto imporre per questo togliarti lo Stato e la Chiesa Cattolica recita la Costituzione sono ciascuno nel proprio ordine indipendenti e sovra spicca subito la asimmetria non è il rapporto tra due Stati ma quello lo farà il comportato ma è il rapporto tra lo Stato lo Stato italiano che è nazionale territoriale determinato storicamente che ha avuto origine appunto dalle vicende del risorgimento è una comunità chiamata cattolica cioè universale vedete che non sono sullo Stato messo piano però lo Stato riconosce alla Chiesa cattolica una sovranità che non gli appartiene non non in tutto lo Stato è sovrano quindi in questo rapporto diciamo con la Chiesa cattolica lo Stato moderno si autolimita e dunque riconosce oltre che la sovranità la Chiesa nel campo della solidarietà riconosce che non ha potere su questa dimensione dell'esistenza c'è una dimensione dell'esistenza su cui lo Stato non ha potere ma quanto siamo lontani dallo Stato moderno e quando siamo lontani dalla Chiesa cattolica oggi oggi che non siamo più moderni qualcuno dice che siamo neomoderni qualcun altro dice che siamo moderni questa è una discussione che si potrebbe affaticare per molto ma perché siamo lontani siamo lontani perché sia lo Stato nazionale che la Chiesa cattolica hanno subito delle profonde metamorfose quando si è usciti dalla modernità lo Stato già hanno il Toimbino nel 1995 parlava di un declino dello Stato nazionale lui però pensava al fatto che questo declino fosse determinato da organismi internazionali ai quali bisognava insomma organizzare i rapporti tra gli stati oggi con il tema del villaggio globale la questione è ancora più complessa l'organismi sovranazionali a limitare la sovranità degli stati nazionali con buona pace dei sovranisti ma ci sono le grandi lobby economiche finanziate economia ormai non c'è più c'è la finanza soprattutto è lì che si prendono decisioni a volte ci illudiamo che a decidere siano i parlamenti alcune decisioni fondamentali del futuro dell'umanità non le prendono i parlamenti nazionali c'è un declino dello stato nazionale determinato da questi due fattori il riferimento agli organismi internazionali da un lato e la globalizzazione dall'altro la chiesa cattolica chiesa cattolica si è profondamente rinnovata pensiamo si è profondamente rinnovata perché sta progressivamente e speriamo senza nostalgie abbandonando la forma di un cattolicesimo convenzionale o cristianesimo convenzionale come recitava il famoso libro negli anni settanta di Van Der Poe il cristianesimo convenzionale viene abbandonato in nome di un cristianesimo che abbia a che fare con l'autenticità dell'esistenza piuttosto che col formalismo delle tradizioni e allora trovo del tutto diciamo fuori fuori luogo il fatto che si sbatta il petto perché le chiese sono vuote qualcuno dice dopo la pandemia c'è il famoso articolo di giorni fa di De Rita sullo svuotarsi delle chiese dopo la pandemia cioè il fatto che la chiesa riscopra la propria autenticità si purifichi significa anche che petto di rinomini di Piazza un paese rispondi rispondi di Rihanna di Rihanna di Rihanna di Rihanna rinomini che è Grazie a tutti. Grazie a tutti.